Eccoci insieme, allora la prima questione che affrontiamo riguarda il territorio costiero, le nostre spiagge. La stagione ormai si sta aprendo, insomma bisogna ammetterlo, con le belle giornate, soprattutto allungate, le opportunità ci sono, il turismo è un elemento fondamentale, ma che tipo di turismo, quali sono le occasioni, le opportunità che vengono offerte ai visitatori, ai fruitori dei servizi costieri di ricettività e non solo, al territorio lunghissimo del nostro Veneto e per quel che riguarda le spiagge in particolare, quali sono i punti di forza, quelli di debolezza, le novità importanti, le iniziative, insomma c'è parecchio da raccontare. E maggiori competenze al riguardo li abbiamo qui in studio, ve li presento subito. Allora, ben arrivato Luigi Pasqualinotto, Presidente Consorzio Jesolo Venice, Presidente Venice Sands, Spiagge del Veneziano, diciamo così, ben arrivato Presidente, nonché albergatore, per cui è bene sottolineare anche questo aspetto. Ben arrivato anche il Presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, grazie anche a lei di essere qui con noi. Ricordando che Union Mare Veneto è un'associazione di categoria che unisce i balneari della costa, quindi questo è bene ricordarlo, con tutte le attività economiche del Veneto, costiere e quindi anche le spiagge e i comuni, una decina di comuni costieri del Veneto. Quindi un range di operatività molto significativo e anche importante. Assolutamente sì. Allora, senza togliere uno all'altro, poi l'argomento verterà anche sulla fruibilità di queste spiagge, l'accessibilità, parleremo anche di famiglie, di persone che hanno delle difficoltà motori, parleremo di anziani, insomma di rendere tutti questi luoghi turisticamente accessibili proprio per tutti, Venice for all praticamente. Però vi direi di fare un po' un quadro. Le nostre spiagge, qual è lo stato, la nostra zona costiera, qual è lo stato di salute o di malattia che sta soffrendo adesso? Ci sono anche delle legislazioni, insomma c'è un po' di chiarezza da fare. Lo stato di salute delle spiagge della costa Veneta penso si possa definire ottimo, nonostante il fatto che stiamo vivendo un periodo molto difficile. Ovviamente siamo reduci da due stagioni che sono state fortemente condizionate dall'emergenza Covid, ma il Veneto credo abbia saputo reagire ed affrontare queste criticità in maniera migliore rispetto a tanti altri territori e questo è stato dimostrato dagli esiti soprattutto della stagione 2020-2021. Siamo riusciti a mettere in campo tutte quelle azioni per trasmettere il concetto di sicurezza e quindi per consentire ai tanti ospiti italiani e stranieri che hanno continuato a premarsi anche in questi due anni di frequentare le nostre spiagge al più alto livello di sicurezza possibile. Dall'altra parte continuiamo a lavorare per affrontare le criticità della direttiva Bolgestein perché insomma come ormai è noto. Aspetta Fermina, perché tanti ce l'hanno chiesto, può spiegare bene di che cosa si tratta? Perché nel pronunciare questo nome dietro ci sono state delle incomprensioni e un pur parler di chi non ha la cognizione di causa, di cosa sta parlando. Che cosa è successo? Cosa sta succedendo poi? Parliamo di una direttiva comunitaria del 2006 imposta appunto dalla comunità europea che obbliga in questo caso allo Stato italiano e al pari di altri di individuare dei percorsi di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali. La riassegnazione. La riassegnazione perché queste concessioni demaniali sono state negli anni rinnovate in maniera automatica. Ahimè in questi 13 anni che sono passati dall'entrata in vigore di questa direttiva per tutta una serie di motivi che mi ci vorrebbe troppo tempo ad elencare non siamo riusciti a produrre una soluzione legislativa, la politica non è riuscita a produrre una soluzione legislativa che potesse mettere in sicurezza questo comparto che è bene ricordarlo, è un comparto fondamentale non solo del primato turistico di questa regione ma anche a livello nazionale del turismo italiano. Il governo Draghi da questo punto di vista ha decisamente accelerato l'attenzione su questo tema anche in virtù di una serie di sentenze che si sono cristallizzate sul territorio, l'ultima, quella del Consiglio di Stato dello scorso novembre e quindi adesso tutti quanti i comuni italiani in qualche modo stanno lavorando per farsi trovare pronti ad affrontare questi percorsi di evidenza quando sarà necessario. C'è una data di scadenza che è quella del 2023 e quindi molto ravvicinata, si vocifera anche che di qui a breve probabilmente ci sarà la necessità di una proroga tecnica per mettere in condizioni i comuni italiani di istruire questi procedimenti che non sono semplici, io proprio domani sarò a Roma a partecipare a una riunione a livello nazionale proprio perché come sindacato e come componente fondamentale del sindacato nazionale stiamo cercando di dare il nostro contributo in questo senso è evidente che stiamo lavorando per far sì che le aziende possano essere pronte quando sarà necessario ad affrontare questi percorsi di evidenza pubblica. Qual è il timore scusi che mi soffermo in questo però può anche intervenire lei, è stata una cognizione di causa per cui qual è il timore più grosso che hanno i balneari, insomma sostanzialmente chi gestisce queste spiagge con gli investimenti che ha fatto eccetera perché cosa può succedere sostanzialmente? Dov'è mancata la legge? Potremmo iniziare una lunga discussione sull'opportunità o meno dell'applicabilità di questa direttiva però ormai consideriamo questa cosa un dato del passato. Come abbiamo avuto modo di affermare più volte se saremo costretti ad affrontare i percorsi di evidenza pubblica lo faremo con fiducia e anche con la consapevolezza di poter dimostrare perché le spiagge della costa Veneta sono il tematismo balneare più importante d'Italia. È del tutto evidente che se il demanio marittimo è una proprietà dello Stato le aziende che insistono su quel demanio sono aziende private, sono aziende che sono state costruite in anni di sacrifici, in anni di investimenti. Questi sacrifici e questi investimenti dovranno per forza di cose essere riconosciuti ma soprattutto dovrà essere riconosciuta la professionalità dei tanti operatori del Veneto in particolare ma in senso generale di tutta Italia che hanno contribuito ai numeri del turismo. Lei si immagini che il Veneto continua ad essere la prima regione italiana per presenze turistiche, quasi il 50% di quei numeri si producono sulle spiagge, i balneari hanno sicuramente un ruolo fondamentale in questo primato. E come c'è chi ha detto ha allungato il rischio che in quest'ambito si insinuassero anche infiltrazioni di carattere malavitoso oppure multinazionali, fondi addirittura internazionali e quindi si perdesse sostanzialmente di fatto un patrimonio che è tipicamente del nostro territorio. C'è questo rischio, questo pericolo? Questa è indubbiamente una possibilità e questo è un ulteriore motivo per far sì che vengano riconosciute quelle cose di cui parlavo in premessa, nel senso che gli operatori che sino ad oggi sono stati custodi, premurosi, attenti di un bene pubblico e hanno dimostrato di poter produrre quella ricchezza importante che si produce sul territorio perché quando si parla di turismo dobbiamo sempre ricordare che questi numeri non possono essere delocalizzati e prodotti altrove. Questa è una forma di economia reale nel senso letterale del termine, si produce qui con peraltro delle fortissime incidenze occupazionali, per cui chi fino ad oggi ha fatto il proprio dovere lo ha fatto bene, consentendo ad esempio al Veneto di essere ancora la prima regione turistica d'Italia, deve essere messo in condizione di partecipare a questi percorsi di evidenza pubblica e di vedere riconosciuto gli investimenti e i sacrifici che sono stati fatti fino a qui. Questo sarà anche un modo diretto di tutelare le professionalità e il know-how che gli operatori balneari turistici del Veneto hanno dimostrato di avere in questi anni. Questo diventa strategico e importantissimo per tutto un settore, in Veneto in particolare ma anche in tutta Italia, per cui la questione è aperta un po' ovunque. Senza spiagge, senza mare non esiste turismo, la componente del tematismo balneare è una componente fondamentale dei numeri anche a livello nazionale, per cui mai come in questo momento, grazie purtroppo anche alle criticità della Bolgestein, la politica nazionale si è resa conto dell'importanza delle spiagge, dei campeggi, degli stabilimenti balneari, dei chioschi attrezzati, di tutte quelle attività economiche che insistono nel demanio marittimo. Ma è una peculiarità, sì, c'è anche per carità di altri paesi, però in italiana soprattutto, per cui non è stata capita la valenza di questa iniziativa a livello internazionale? Sì, assolutamente, la sua osservazione è corretta, la valenazione attrezzata nasce in Italia, nasce in Italia alla fine del secolo scorso, nasce proprio perché, per riaffermare il concetto di salubrità del luogo mare e quindi le colonie marine nacquero in Versilia, in Veneto, proprio perché le persone che avevano delle difficoltà cardiorespiratorie, delle difficoltà di salute venivano portate in quello che è un ambiente salubre, quello è stato, come dire, la miccia che ha innescato questo fenomeno turistico, che poi è diventato una componente fondamentale non solo dell'economia turistica, ma dell'economia di questo paese, la direttiva comunitaria Borghestein sicuramente è stata in qualche modo calata sui territori e non recepita nella maniera corretta, come dicevamo in premessa, ormai parliamo di qualcosa che è assodato e sul quale molto probabilmente non ci sarà la possibilità di tornare indietro, noi non abbiamo timore di affrontare questi percorsi quando sarà necessario, ma riteniamo doveroso che ci venga riconosciuto quello che è stato fatto. Quando le dice ci venga riconosciuto si mette dalla parte del cittadino telespettatore che fruisce a questi servizi, queste spiagge, abituati in un certo modo e non è a conoscenza dei meccanismi, poi magari ci seguono anche addetti ai lavori, abbiamo mai scoperto, però magari già lo sanno. Cosa vuol dire venga riconosciuto? Cioè di fatto però ti può anche essere riconosciuto, ti può essere dato anche un quid in termini economici, una parte risarcitoria, quello che vuoi, però tu non potrai più esercitare quell'attività che è il patrimonio più grosso che hai, o no? Ma guardi non è questo, cerco di spiegarglielo in maniera semplice, innanzitutto non stiamo parlando di affitti di aziende, nel senso che le aziende che sono state costruite sul demanio sono aziende private, ma soprattutto gli operatori che fino a qui sono stati dei concessionari e hanno esercitato in maniera puntuale e professionale queste attività, hanno dimostrato di essersi comportati bene, diversamente ad esempio il Veneto non sarebbe la prima regione turistica italiana. Potranno continuare a farlo? Dovranno continuare a farlo e per fare questo bisogna che i futuri percorsi di evidenza pubblica tengano conto non solo degli investimenti, ma anche e soprattutto del know-how e delle professionalità acquisite. Questa è una cosa fondamentale, perché altrimenti tanti hanno pensato, hanno interpretato, cambia tutto, arriva un operatore esterno, manda via chi c'era e... La direttiva Bolgestein nasce fondamentalmente per mettere in condizione gli operatori di confrontarsi con il mercato, noi non ci vogliamo sottrarre a questa imposizione, a questo obbligo, ma è giusto che chi fino ad oggi ha operato bene abbia da questo punto di vista il riconoscimento di quello che ha fatto. E quindi su questo cercheremo di capire cosa andrà a succedere, perché là è la politica, là è una questione veramente politica. Su questo stiamo continuando a lavorare proprio per far capire che la campagna di stampa che a volte descrive i balneari come delle persone irresponsabili che si arricchiscono sfruttando un bene pubblico è qualcosa che non riguarda la stragrande maggior parte della categoria, sicuramente non riguarda gli operatori balneari del Veneto che in tanti anni si sono sempre distinti per tante iniziative in sinergia con la Regione, con le amministrazioni sanitarie assolutamente lodevoli e quindi bisogna entrare un pochino più nel merito della questione e capire che non si tratta di corporativismo, non si tratta di difendere dei diritti acquisiti, si tratta di riconoscere quello che è stato fatto e soprattutto il merito di chi ha operato fino a qui. Assolutamente, era necessario un po' fare questa precisazione, questo chiarimento perché altrimenti si commenta su cose che magari le persone non sono bene a conoscenza. Patrimonio incredibile dal punto di vista turistico per il territorio e per gli operatori del settore. Tirando un bilancio è andata bene due anni passati per fortuna. Quali sono un po' le criticità adesso perché abbiamo visto tutte queste situazioni dei rincari, delle materie prime, degli energetici eccetera, è un momento un po' particolare. Per quel che vi riguarda che cosa ne emerge? Allora, gli ultimi due anni in qualche maniera insomma il mare è riuscito ad affrontare la crisi meglio che le città d'arte piuttosto che la montagna. Per quanto riguarda il 2022 abbiamo avuto i primi due mesi nei quali c'era una forte pressione della domanda e quindi delle prospettive per la stagione paritetiche o forse... Quindi la domanda è buona? Sì, assolutamente. Abbiamo avuto una piccola fase di stallo in concomitanza con le vicende Est Europa, però è già ripresa e ci aspettiamo comunque una stagione che ricalchi grosso modo il 2019, per cui la pre-pandemia. I flussi da dove dovrebbero provenire? I flussi ancora per quest'anno seguono sostanzialmente quello che è successo negli anni scorsi, per cui è soprattutto un flusso su gomma, il volo aereo stenta ancora, sta riprendendo ma sicuramente più sul lungo raggio che non sul corto, di conseguenza il raggio chilometrico è quello delle 5-6 ore di macchina, Nord Italia, per cui Triveneto, Lombardia, Piemonte per quanto ci riguarda, i nostri fedeli austriaci e tedeschi e quindi Svizzeri, per cui è una zona che ci può raggiungere ancora facilmente e in una sorta di comodità in autonomia, per cui il traffico su gomma sta riprendendo pian pianino forti dell'interesse che c'era, ma anche di qualche problema ad est, ma la parte più ad ovest dell'est Europa, per cui la Polonia e quant'altro sta cominciando a riprendere anche la domanda da quelle nazioni. Credo serva ancora un annetto forse per ritornare. Ma c'è il condizionamento più grosso, la limitazione più grossa, che io da lei, dopo entrambi potete intervenire, è legata al post-Covid, non mi permetto anche di dire post perché ogni volta succede comunque il discorso Covid, quindi pandemia, reticenze, questione guerra che comunque è in Europa, oppure crisi economica, dati inflattivi rilevanti, rischio recessione, cioè sono fattori che sono percepiti più dagli italiani, più dall'estero, che sentimenti avete? Lei tra l'altro è anche un hotel per cui magari può ragionare con più cognizione di causa? Un po' di tutto e un po' di niente, nel senso sicuramente se l'anno scorso si avvertiva una qualche preoccupazione da pandemia, quest'anno nella testa del turista insomma siamo già forse oltre quella fase e anche da parte dell'abbregatore finalmente c'è la sensazione di poter ricominciare a fare accoglienza nella maniera in cui la possiamo fare, la sappiamo fare, per cui con un abbraccio, un sorriso visibile, non dietro la mascherina, per cui c'è anche la voglia da parte nostra di ritornare ad accogliere in maniera usuale diciamo il turista che ci premia e torna da noi annualmente, così come quello nuovo ovviamente. Per quanto riguarda l'aspetto inflattivo è chiaro che sia lato consumatore che lato erogatore di servizio qualche problema c'è nel senso... Costi energetici ci sono, è chiaro che incidono, ma incidono non solo direttamente ma anche su tutta la filiera, tutta la materia prima, gli alimentari, la lavanderia, per non dare un'idea, sono costi rilevanti che stiamo cercando di assorbire in azienda non caricandoli sull'utente finale. Da parte dell'utente finale ovviamente ha le stesse problematiche a casa sua e magari qualche piccolo aggiustamento di ferie invece di 10 giorni, 6, va fatto. Però sembra insomma, gli indicatori danno come la voglia di evadere comunque anche per periodi minori sicuramente molto rilevante in questo momento in cui si sta tornando alla vita, si sta uscendo. Stiamo cercando di limitare i rincari in maniera da poter insomma accogliere e assorbire. L'aspettativa turistica è cambiata dopo? Sì, c'è stata una piccola mutazione nel senso che si ricercano molto più aree verdi, spazi aperti, le nicchie di mercato sono molto più attente, sono molto più specialistiche, si cerca probabilmente anche una vacanza fuori dai canoni tradizionali dei tre mesi estivi, c'è un piccolo allungamento di stagione. Che questo male non fa mai. Assolutamente no. C'è quindi un'attenzione diversa al di là della sicurezza, insomma della è la solubrità, all'inclusività, c'è un'attenzione dal punto di vista dell'ecosistema che circonda la spiaggia, non è più sole, mare e spiaggia, ma è anche tutto quello che è territorio e quindi noi dovevamo anche trovare, siamo già pronti insomma per far esplorare anche quello che c'è dietro, a volte girandosi di 180 rispetto al mare. A Iasola per esempio c'è tutto un aspetto di laguna, di fauna, di verde, di percorsi ciclabili che sono un complemento, sono stati finora un complemento alla vacanza, in questo momento la sostenibilità e questa possibilità di fare una vacanza diversa diventa esso stesso un argomento di scelta e una predominante nel momento in cui si predilizza una spiaggia rispetto a un'altra. Questo è significativo, dopo qua ci agganciamo col tema appunto dell'apertura a tutti, dell'accessibilità e fruibilità del territorio, spiaggia ma non solo, quindi che cosa ne pensa per quanto riguarda le aspettative turistiche e gli andamenti in generale a fronte di certe criticità innegabili del settore? Guardi, prima quando parlavamo di Bolgestein ad esempio ho fatto un riferimento alla campagna di stampa che molto spesso dipinge i balneari come degli operatori non corretti, uno dei tanti temi che spesso viene rinfacciato è proprio quello del caro ombrellone, anche da questo punto di vista invece le spiagge... Sì esatto, invece anche sotto questo punto di vista le spiagge del Veneto si sono sempre distinte nel senso che noi abbiamo sicuramente un ottimo compromesso qualità prezzo con dei servizi di eccellenza veramente molto alti in tutte le spiagge del Veneto a dei prezzi che sono sempre stati calmirati e sono sempre stati condivisi con il territorio per cui qui da noi non ci sono delle situazioni come in altre regioni costiere italiane dove andare al mare è particolarmente costoso e a volte non è nemmeno così semplice. L'importante è ricordare i servizi, lei ha fatto bene a sottolinearlo perché il tipo di turismo che verte le nostre coste è un turista esigente, all'aspettativa viene qui perché però il fatto che ci siano i servizi giustifica e fa capire anche... Guardi le do un dato solo in questo senso, nel 2020 il Veneto probabilmente è stata la regione costiera che ha saputo prima e meglio di altre reagire all'emergenza Covid, lo ha fatto in maniera unitaria e omogenea cercando di creare dei protocolli, di autodefinire dei protocolli che potessero appunto offrire le nostre spiagge al più alto livello di sicurezza possibile. Questa cosa è stata poi implementata nel 2021 e è tramutata nell'introduzione di un progetto che è il progetto Blue Zone, che è un progetto che è stato condiviso proprio con la rete VeniSense ma soprattutto con la regione del Veneto ed è un progetto che ha fatto sì che tutti gli operatori balneari della costa abbiano certificato le metodologie di intervento e di sanificazione di attenzione delle spiagge. Ebbene questo progetto è stato riconfermato anche per la stagione 2022. Quindi ci sarà sempre grande attenzione. Certo, nonostante il fatto che l'emergenza sanitaria non sia più quella appunto di un anno fa, nonostante il fatto che in tante altre zone d'Italia magari si è tornati al 2019 in termini di vivibilità delle spiagge, di confort e di spazi, in Veneto è stato deciso di mantenere questa attenzione non tanto per una preoccupazione dal punto di vista sanitario ma proprio per innalzare continuamente il livello della qualità dei servizi. E quindi da questo punto di vista mi sento di dire che le spiagge del Veneto continuano ad essere un luogo salubre, un luogo sicuro dove continuamente il livello della qualità dei servizi va innalzandosi mantenendo dei prezzi che sono assolutamente alla portata di tutti. Ma infatti poi le persone fanno anche dei confronti, cioè non è utile parlare di alcune regioni perché è sparare sulla Croce Rossa, però di fatto è così. Quindi è bene anche sottolinearlo. Credo che siamo sempre distinti per una certa qualità e quella rimarrà a discapito di qualsiasi condizione esterna. Chi viene da noi sa cosa chiedere, sa cosa si aspetta ma semplicemente perché noi sapevamo anche Daglia. Esatto, infatti c'è anche la competenza e dopo parlando di competenza parleremo anche di personale e di persone qualificate di formazione che è un altro aspetto molto importante. Andiamo in pubblicità rapidamente, pochi secondi poi siamo di nuovo con voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.